Benvenuti in questo nuovo video di Fortnite Questa oggi è la cosa più incredibile che vedrete Penso che ci insulteremo, che urleremo Qua i frame e i friend non c'è Io vi avviso prima di iniziare Ah così? Perché in questa Deathrun Quando uno di noi muore Muoiono tutti Che bello Ragazzi È stato bello essere vostra amica Non so se capite Ma se io inciampo No io non sono Io non sono morta Aspetta No perché Fieri devi arrivare Devi arrivare qui Sì 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 Quindi io potrei inciampare Io potrei inciampare Che è bruttissimo Ve lo giuro Ah stef non scherzare molto Perché sai che arriverà il punto In cui io morirò in continuazione E voi No che è morto Beh però aspetta Chi è stato È quel deficiente di Marci ragazzi Ok Ecco da qua iniziamo a morire davvero No raga no Grazie per favore però Allora Non è scherzare all'inizio No 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 Non ho scherzato No pressure Chi cavolo è stato? Nome e cognome Io fermo e non c'è Checkpoint ragazzi Ero fermo al 4 Esatto io Mark ero Nello stesso punto Ragazzi Porca miseria È Marci È Marci No è Marci È Marci Marci è con me Quindi è Marci Ok Guardiamo Guardiamo Oh io c'è il jackpoint Quindi faccio così E lo matto Dieci punti No Steph No 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 Steph lo sai che già ste cose non le so fare di mio Scusate Ragazzi è una cazzina Sono intampato Ragazzi è una cazzina Sono intampato Ha fatto Marco Questo non ero io Ha fatto Marco L'ho visto Ragazzi ma prendete la rincorsa lunga Guarda Easy Chi è ragazzi? Io per una volta Che ti zitti tutti Ok 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 No 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 Voi vedete ragazzi Comprare i reversible Molto bene Tanto a qui che finiscono Ammazzatevi Bravo Mentre fisco il livello Facendo un tempo nel mondo Per andare in ridicola A prenderli Sono stupendi Tipo voi avete No Ma questo è solo un pupazzetto E invece no Perché tu vai E diventa anche Camille Oh rifammi Rifammi il Io volevo chiedere Consolini Di farci I video su Instagram Dove praticamente Li trasformate Facendo E fate vedere No ragazzi Che sta taglio Ok Su Instagram Per è Occhio Occhio Ok Ok Io ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ragazzi Siamo morti No no Questo è un max jump No non è Ma di fila I figli di me È max jump Dobbiamo farlo assieme Ragazzi No Ma che assieme Scemo pagliaccio Mamma mia Abassero un mostro Ecco Allora Fere Puoi aspettare Dieci secondi No Ti prego No Fere Ti sconti Opla Fere Inzì Stefano E vabbè Fere è assaltino Guarda Io faccio No devo usarlo E muori E ora ho sbagliato io Mi sto nervosendo Sono nervoso Sono arrabbiato Mi sto tirgherando Io mi spacco Perché sei nervoso Devi rigirare un reversibile Rigiralo Perché portafortuna E' uno dei metri Io ho perso l'abilità La capacità E anche l'integrità morale No Ho commentato Opla Grazie Me ne vado Giovani Ecco Ragazzi Non mi fanno superare Questo Per favore Ragazzi Vi posso Eccare una domanda Ma secondo voi C'è bisogno di colui No 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 Capitemi Di colui Capito Lo devo fare da sola Non rompermi Ma partendo la sigla Marco Secondo voi Sta partendo la sigla L'ho finito No Fare comunque Ha un odio Verso il super steffo Ce lo annulla Palesemente No no ragazzi Quando parte la sigla Quando parte la sigla E' già attivo Eh no ma capire Ma io devo andare Ad aiutarla Invece Eh è quello Il problema Allora E' molto difficile Questo livello Forza ragazza Attenzione Supera la fila Come gli italiani Ho saltato la fila Steffa è saltato la fila Non è un amico L'ho ucciso L'ho ucciso Andate Allora raga Guardate Ok Guarda Voilà Su sto guadio È un maxi jump Dovete trattarlo come un maxi jump E poi risaltare subito E devi saltare all'ultimo Così Come un ninja calabrino Guarda No Steff No Sium No I checkpoint Non ho preso L'undicesimo checkpoint Io non l'ho preso ragazzi Dai Che sbatta Vi dovete fare una vita Tutti quanti Ok Raga vuoi fare come me Ragazzi ci ammattiamo? Così? Ma che porta? No Sono stupido raga Non sei passato Sì Vabbè Sì Sì Ok Ed 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 No No Ferre Non mi hai fatto bene il 13 Niente Ho preso il checkpoint Vi prego Di te che lo preso Ma Marci Ma Marci A me fa molto piacere Che mi ammattate tutto il tempo No no È stato Marci Allora No raga Ho visto Marci che sembrava una pallina Marci Non ho capito bene Svegliati Perché è colpa tua adesso Adesso è colpa tua però No vi giuro Cosa C'è una lastra strana Che ti fa Ah perché c'ho lo scivolino Sono rimorta in volo Ti prego stai fermo Ah no Ho capito Scusate Scusate Ma quello è parito Per la tangente Moriremo in due per tre Noi non faremo Tipo livello 14 Hai capito Marci No come si fa Praticamente scivoli come in un ghiacciolo Quindi E quindi devi Credo Ho compensato Come hai fatto Allora Fere Fere te lo insegno Guarda Ok Ok È un cheat No ma torno indietro Io vi giuro Ragazzi che è morto Che non si è la faccia più che voi No Marci Ti spacco la capacità Ti prendo sberle Ok Ok Che dobbiamo fare Ma L'ho preso L'ho preso Io non ho preso il 18 Mi sa raga Ma so che non lo preso Siete morti per colpa mia O per i cavoli vostri Per colpa tua Nessuno lo sa No Mi fate vedere il 18 Nessuno lo sa Ragazzi però dai Al mare Andrà Al mare andrà E poi In bagno Dimmi che ho toccato il 20 Ti scongiuro Dimmi che Ti prego Ma che marci Ma non è vero Scusate Istantaneo Mi state stressando Sono caduta all'indietro Per essere satana Non lo più vuole di vivere ragazzi No Dai ragazzi Io al check point Io al check point Io al check point Io al check point A me va bene Dai ragazzi Mi fate prendere il check point Sono in un punto in cui Potrei urlare Devo essere veloce Perché volo Che mola Che mola Raga per favore Io sono fermo al check point Non riesco giù Ok l'ho preso Vedi che adesso state fermi Ma io sono fermo Ok Io almeno lo ammetto Quando quando No sono caduto Eh sono scivolato Allora Steph questa volta Non puoi correre da solo Come un imbecille Facendo Per aspettarci E cosa cambia Se vi aspetto Perché se no Vedi che non rissா? Sono cristiano Ronaldo No È la seconda volta C'era un buco L'ho preso La perfumo Adesso qua devo seguire le trappole di step, per favore. Aspettate, prendo il check, poi tu sei. Staffati bravi, raga. Levatevi! Che cos'è sta roba? Dovete correre. Eh, raga, Steph, è colpa di step. Oh, è colpa tua. Sei corso? Uno alla volta, ragazzi. Ho preso il check? Sì. Vai, Steph. Raga, poi se ne per forza lo sprint, eh. No, credo sia morto, sono morti per colpa di Marci, raga. Ah, ok. Chi è stato? Io ero ferma. Io l'ho preso. Io ero ferma, stavo aspettando il mio turno. No, no, sono stato io, è molto difficile il suo livello. Grazie, eh. Eh, vabbè, te l'ho... Raga! Mi prega, stavolta sono morto io. No, stavolta sono morto io. Ok, ma come? Ok. Ok. Qualcuno muore. Marci, qual era il dramma del 27 che era una ventola? No, che non riuscivo a iniziarlo. Io, io, io. Bravo, Steph. Ok, va bene, va bene. Però siamo stati bravi perché non siamo morti per un po'. Carini, eh. No, raga, no. Scusate, raga. No, 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 non così. Eh, è andata così, invece, Steph. No, e ora sono io, ora sono io dalla disperazione. No, sei demoralizzato. Dalla tristezza. Steph, Steph, sei demoralizzato. Non ti preoccupare. Oh! Oh, basta! Cioè, io, io, io ho delle ali. Steph, guarda, mi sposto tutta la vita a morire. Per... No, in volo, ragazzi. Ho tutta la vita a morire. Ti prego, eh. Chi è stato? Io lo so. Ma che, ma... Non è che è sempre Marci, eh. È sempre io. Chi è? Un cane! Steph, questo non lo so fare. Steph, come si fa al 33? È tosso? Io l'ho detto che questo non lo so fare. Marci, mi hanno fatto morire cinque volte quando l'ho fatto. Lasciala stare. No, no, ma Steph, tranquillo. Da una colpa agli altri quando tu hai il problema. Va bene. No! Per favore, un secondo. Mi fate arrivare a qualcosa. Lo fatto, lo fatto, lo fatto. Calmi! Eh, raga. Preparatevi, perché qua si morirà tanto, eh. Lo fatto, lo fatto, lo fatto. Chi era? Io, no, ero per me. Ecco, grazie. Non io, ma raga. Preparatevi che sono al 31. Sono le mini piattaformine e io qua... Là è finita per lui, eh. Dai, ragazzi. Mi prego, fermi. Eh, Steph, io non sono capace di fare il 34. Ok. Ok. No, 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 ragazzi. La stavolta non io. Non vado a camminare dritta. Non arrivare al prossimo punto. Avete il tempismo di mia madre. Ok. Ok. Di quando praticamente starti la partita e dopo due minuti ti c'è pronta la cena. Carino, carino. E poi in realtà non è pronto. E poi non è manco pronto. No, ma Steph, il problema non sei tu che inizi a giocare quando bisogna cenare. No, il primo è della mamma quando fa da mangiare. Vai, Mark. Non lo facciamo insieme. Sto bloccato, ragazzi. No, stavo prendo il checkpoint, stupido cretino. Ah, stupido cretino da primo colpo ha fatto il 31, hai capito? No, no, no. No, no. No. Potete stare tutti fermi? Ragazzi, ti prego! Ragazzi, ti prego! No, ragazzi. Era l'ultimo. Non hai fatto niente. Marci, stai fermo. Marci, stai fermo. Un minuto, ti prego. Non ha fatto nulla. Non io, non io! No, ragazzi. Non io, non io. Cioè, mi fate finire a sto livello, per favore. Un attimo fermi, ragazzi. Allora, Marci lo sto babysitando. Io sono fermo. Teoricamente non può morire. Non c'è modo in cui Marci muoia. Io sto babysitando. Grazie, grazie. Ho superato due livelli, vedete? Marci sta fermo e ne supero due. No, anche Marci è fermo. No, no, no. Io sono bravissimo. Guarda. Ha capito. No, come è trattata quattro. No, no, non sono stato io a Stefano. Marci, però. Marci. Ma se ero dietro a Stefano, come posso essere stato io? No, vi prego, dai due volte Marci. I nolo, ragazzi. I nolo, ragazzi. In Nolo, e Marci. Ma é Marci è fermo? È vicino a me fermo. Chi è? Chi è? Chi è? È Marci, stiamo fermi al cellulino. Chi è? Chi è? Chi è morto altre volte con questa cosa? Ma come fai a morire? Salta al lato, risalta al lato e prendi il checkpoint. Raga come si fa sto livello? Il 34 come si fa? Allora qua non è colpa mia Sono io ma non è colpa mia Cioè perché è una possibilità su due con le piattaforme E quindi non ho responsabilità Devi dirmi con me perché se no si muore qua Non lo so fare Non mi ricordo più Perché c'è quello dopo mi sono dimenticato Morirò un sacco ve lo dico L'ho fatto Piango Colpa mia raga Ti fate fare un livello Sinistra Centro Sinistra Sinistra No Ferri ti vedo poi lanciare qualcosa di stesso Per favore Io guarda L'unica cosa che posso fare per te è star ferma Sto facendo solo quello Meteorite Ok vai No sono caduto Quale era l'ultimo così non faccio morire gli altri Aspetta in quale? Dietro di te Io ho fatto il secondo a sinistra E poi ho saltato direttamente Che ti si spegne E si è spento il cervello raga Mi si è spento il cervello Allora vi prego Marche e pere calmi Io sto fermo Sono fermo Sei un attimo calmo Sono proprio fermo Aspetta pere Sto andando Ce l'ha fatta Ho vinto Ho vinto State fermi Forza mark vai Ehi ciao Dove siamo stef Aiuto Io non ho provato Arriviamo Vedi senza loro Fere Hai visto come Più easy Sì certo Perché Facicamente Quelli che hanno vinto No 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 Perché avete vinto Sacrificando le nostre vite Ragazzi io sto prendendo tutti sti rovi Sapete cosa vi dico? Cosa? Ciao a tutti Che io torno indietro Che dove fai? No E spam muoio Dai stef E voi non finite Quanti livelli sono? 50 Come ci sono? Sef quando è che fai 6 anni? Siete scusate 38 Eh? 38 38 E chi è che moriva in continuazione? Guarda Marci zitto Zitto Marci Zitto Marci Cioè se avessimo un counter delle morti Tu sei quello che ne ha di più Allora posso capire Capisco la situazione Non ho più voglia di continuare No no ma brutta roba Cioè si lì è finito?